Ezio Capuano è ancora allenatore del Taranto, ha firmato un contratto triennale e la prima intervista la concede in esclusiva ad Antenna Sud ed è qui con noi in studio. Grazie per aver accettato l'invito mister. Mi verrebbe da dire promessa mantenuta rispetto a quello che aveva detto dopo aver ottenuto il risultato della passata stagione con il Taranto. Intanto buonasera. A una certa età bisogna essere anche un uomo di dignità e di parola. Io penso che tutto mi si può dire, posso essere bravo o meno bravo, simpatico o meno simpatico, però penso di essere un uomo che ha mantenuto sempre la parola. C'era un accordo col Presidente al quale va il mio ringraziamento illimitato perché mi occorre ringraziare la proprietà, Massimo Giove perché fare un progetto così lungo nel Lega Pro tre anni non si fa tutti i giorni, quindi vuol dire che ci siamo conosciuti, che è stato apprezzato l'uomo, i tanti sacrifici, a prescindere da quello che è il valore tecnico. Io voglio dire, sono stato convinto, volevo Taranto, l'ho detto quando sono arrivato dopo 21 anni perché mi era stato tolto qualcosa che in quel momento non meritavo, sicuramente in me adesso ci sono responsabilità notevolissime, no? Voglio dire, accettare un incarico così importante, penso di avere la capacità, l'esperienza anche a una certa età, in una piazza tra le più importanti del sud Italia, è normale che da questo momento in me accrescerà l'entusiasmo ma soprattutto le responsabilità, perché poi non è facile, voglio dire, confrontarsi quotidianamente con te stesso e pensare alla credibilità che hai verso la piazza e a quello che ti è stato dato. È normale che in questo momento mi sento fiero, orgoglioso, sono molto contento di questo progetto a lungo termine che mi vedrà responsabile dell'area tecnica, da quello che saranno le giovanili fino a quello che sarà la prima squadra. Quindi in questo momento sono molto felice, anche un velo di emozione, perché poi essere in città, quanto ti fermano, quanto ti dicono, queste cose sono più importanti di un contratto lungo o dell'aspetto economico. Da parte mia ci sarà il massimo impegno, ci sarà grande professionalità, come penso che ho dimostrato negli anni, con una responsabilità notevolissima che lo debbo alla proprietà ma lo debbo all'intera città. Lo debbo sempre a chi ha creduto su di me e per quella gente la mia promessa sarà quella di lavorare notte e giorno per costruire una squadra, dico, simpatica, che possa regalare soddisfazioni ma che possa lottare ogni partita come lo è stata la squadra di quest'anno. Lei ha detto a proposito della stagione che si è appena conclusa e dei 21 anni che erano trascorsi, che si chiudeva un cerchio. Mi permette di pensare che con questo impegno triennale se ne apre un altro di cerchio che dovrà essere chiuso poi appunto tra tre anni? Beh, oggi si apre un ciclo, diciamo abbiamo pareggiato quella sconfitta che portavo in me stessa, non meritata di 21 anni fa, l'abbiamo pareggiata, oggi siamo 0 a 0. Quindi oggi iniziamo un altro ciclo, iniziamo un'altra avventura che spero che sia di grande soddisfazione per me ma soprattutto per chi ha investito su di me e per l'intera città di Taranto. Io dopo la gara di Messina, quando chiesi umilmente di venire a sostenere quella squadra che aveva dato grandi soddisfazioni, che era andato oltre ogni più rosa e aspettativa, c'erano 5-6 mila persone. Per me quello è stato il risultato più notevole, portarne da 500 mila a 5-6 mila per me è stata l'apoteosi, è stata la vittoria più bella. In quel momento a fine partita quando tutto il pubblico che ti applaudiva, perché io vivo di sentimenti, per me il calcio e l'emozione è quella che riesci a trasmettere quotidianamente. È un mestiere diverso, lo dico da tanti anni, non è un mestiere come gli altri. Allora quella gente che ti applaudiva e quelle lacrime da parte di qualche giocatore per una vittoria che avremmo strameritata, che ci avrebbe portato addirittura a fare i playoff, anche se siamo usciti da decimo per un gol in classifica a Vulsa. In quel momento pensai che non potevo mai abbandonare quella città, non potevo mai abbandonare quella gente, non potevo mai abbandonare una proprietà che mi aveva dato fiducia e dissi dovrò continuare. Lo dissi in me stesso e da quel momento non ho mai smesso di pensare che potessi allenare un'altra squadra. Le assicuro che, come d'altronde è accaduto spesso, ci sono state diverse, diverse, due o tre società che mi hanno cercato. Una in maniera particolare, con grande caparbietà, ma il mio pensiero l'avevo già fatto, la mia scelta era Taranto e oggi sono fiero, orgoglioso, contentissimo e anche emozionato alla mia età di poter intraprendere questo nuovo ciclo che spero che porterà tantissime soddisfazioni perché lo merita la piazza, lo merita il popolo tarantino. È una città talmente importante a livello calcistico che penso che qualcosa di più importante lo possa fare. Lei che è uomo di calcio sa meglio di me che quando si fa un progetto triennale ovviamente c'è una sorta di step by step che deve portare ad un traguardo molto più importante che non solo la permanenza in Serie C. Lo ha già in mente quel traguardo? Lei ha detto che il mio campionato, la mia vittoria più grande sarebbe quello di riportare il Taranto in Serie B. Lo so che può essere una provocazione ma con un progetto triennale è possibile? Ma noi abbiamo fatto questo progetto perché partire dalle fondamente io non voglio illudere nessuno, non voglio fare voli pindarici. Noi sicuramente anche per la riforma che probabilmente ci sarà fra due anni quindi ci vogliamo far trovare anche pronti, non so se ci sarà quest'anno o se ci sarà l'anno prossimo ma sicuramente ci sarà. Noi abbiamo già un zoccolo duro che abbiamo costruito in questi mesi che io ho avuto il piacere e l'onore di guidare il Taranto. Sicuramente l'impegno che voglio dire a tutti i tifosi tarantini è quello che io dovrò migliorare la posizione di quest'anno. Quindi siamo arrivati già nei play-off quindi la dobbiamo migliorare. Su questo è un impegno che sto prendendo ma io sono uomo di coraggio. Ho già detto cosa significa il coraggio. Il coraggio significa convivere con la paura e non farsi attannagliare della stessa. Quindi se io avessi paura direi vabbè vediamo. Invece il coraggio, la paura ma non posso né fare voli pindarici però nemmeno dire quello che voglio. Noi cercheremo, questo è il progetto che ho fatto col Presidente innanzitutto di migliorare la posizione di quest'anno di costruire una squadra con giovani importantissimi un giusto mix tra giovani e giocatori di esperienza e poi pian piano farci trovare pronti nello scalare quando più posizioni è possibile e in questo triennio di andare quando più lontano è possibile. Sta facendo l'uomo mercato nel senso fa un po' il manager alla Ferguson nel senso sta già valutando profili per la prossima stagione. Ma è normale che ci stiamo muovendo. Abbiamo un gruppo di lavoro importante. Lei mi dà la possibilità, io lo voglio dire in mondo visione di ringraziare un uomo che per me è stato prezioso quest'anno. Mi rifisco a Luca Evangelisti. Luca Evangelisti è stato il direttore sportivo di quest'anno. non so come andrà a finire però è stato un uomo importantissimo per me importantissimo per lo spogliatoio importantissimo in tutto e per tutto perché faccio questa precisazione perché lei mi ha fatto una domanda ecco subordinata al mercato subordinata alla costruzione della squadra. Detto ciò ho fatto i ringraziamenti col cuore perché io se una cosa non la sento non la dico sì presidente mi ha chiesto di fare il responsabile dell'area tecnica quindi di prendermi un impegno penso di avere la capacità ma soprattutto l'esperienza e la conoscenza dei giocatori quindi sicuramente per me le responsabilità saranno ancora più notevoli non saranno solo quelle del campo ma saranno anche quelle della costruzione della squadra. quando cominceremo a vedere il nuovo Taranto ci dia un po' di date in che senso? ma partiremo per il ritiro che abbiamo stabilito una location molto bella, molto importante quindi poi sarà chi di dovere a comunicarla è normale il vero Taranto lo vedremo quando inizieremo a lavorare quando inizierà la Coppa Italia cercando di farci trovare preparati per quando inizia il campionato. Il dato numerico degli spettatori un paio di riflessioni ancora il dato numerico degli spettatori ne ha fatto riferimento prima 5-6 mila spettatori alla fine della stagione sono stati già un motivo di successo ma quella è stata la mia più grande mi ha ricordato però che a Taranto lo stadio ha anche registrato 18-20 mila presenze può essere un altro obiettivo che lei fissa? guarda, le dico una cosa siccome io sono un uomo di emozione, di sentimento a qualche giocatore magari importante gli ho mandato una clip di 21 anni fa quando io ero l'ordenatore del Taranto con 20 mila spettatori 18 mila, la partita col Castelli di San mi ha chiamato e mi dice mi sembra tutta questa gente e beh, se vieni gli ho detto cercheremo di riportarla perciò è anche un motivo di... no, Taranto è una grande piazza Taranto se si accende vale qualsiasi altra piazza importantissima del sud Italia con un particolare che tanti anni purtroppo è stato nell'anonimato e Taranto non può essere nell'anonimato e quindi per noi il pubblico è fondamentale glielo rispiego quell'immagine festante non so se erano 5 mila, 6 mila ma che comunque sono pochi che Taranto può fare 10 mila, 12 mila con facilità vedendo quell'applauso convinto è stata un'emozione unica in quel momento io ho deciso di rimanere a Taranto di continuare a lottare per loro e di cercare di riportare quanto più gente possibile allo stadio attraverso il lavoro senza chiacchiere le chiacchiere non servono a nulla attraverso il lavoro attraverso la sofferenza nel costruire una squadra simpatica come ho detto prima che possa farsi rispettare su tutti i campi dove andremo a giocare Chiedo un'ultima cosa che però è sempre la solita curiosità vale sempre la ricetta del riso con il limone? questo l'ho detto in momenti di difficoltà dopo Picerno dopo Foggia anche lì la paura il coraggio non so quanti altri allenatori l'avrebbero fatto la mia grande capacità di quest'anno è stata quella anche nei momenti di difficoltà nei momenti di far sì che tutte le attenzioni soprattutto quelle negative ricadessero su di me di isolare la squadra di isolare tutto e ho voluto far sì anche in maniera egocentrica in negativo di far ricadere tutto su di me e alla squadra davo tranquillità illimitata è normale che magari qualcuno pensava che retrocedessimo con facilità è anche giusto ma sono quelle cose che si dicono con sarcasmo penso che questa squadra quello che ha fatto è soltanto da applaudire in bocca al lupo per il triennio io ringrazio mi dia la possibilità ancora una volta come ho detto prima di ringraziare la proprietà Massimo Giove perché a prescindere tutto e tutto fare tre anni di contratto in questa categoria è difficile quindi vuol dire che c'è un progetto affidarsi ad un uomo vuol dire che hai valutato lo spessore dell'uomo per me questo mi inorgoglisce in maniera notevolissima e detto ciò il mio rispetto il mio lavoro la mia professionalità tutto quello che ciò do a dare lo farò per Taranto lo farò per quella gente che mi ha sostenuto per quella gente che non ha mai mollato e per quella gente magari che mi ha ringraziato anche forse non meritando tutta questa attenzione forza Taranto e in bocca al lupo a noi tutti grazie a Ezio Capuano tecnico del Taranto di fresco rinnovo per il prossimo triennio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti